Musica Buongiorno e benvenuti al TG2000, vediamo subito i nostri titoli. Se questo è un ospedale, un'inchiesta rivela situazioni di estremo degrado all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, foto di pazienti ricoverati fra i sacchi della spazzatura. Il ricercato numero uno degli attentati di Parigi, Salah Abdeslam, sarebbe fuggito da Bruxelles perché la legge belga non consente perquisizioni notturne, a rivelarlo è il ministro della giustizia belga. L'autovelox accerterà anche il pagamento di assicurazioni e revisioni, lo prevede la legge di stabilità. A Lecco, un gruppo di profughi musulmani allestisce un presepe per ringraziare la comunità locale dell'ospitalità. I loro auguri a Papa Francesco che oggi compie 79 anni. Bene, allora andiamo subito a Napoli per farvi vedere le fotografie riportate oggi dal Corriere del Mezzogiorno, scattate nell'ospedale San Giovanni Bosco, immagini che illustrano un degrado inammissibile in una struttura del genere. Le barele coi malati negli ospedali del Napoletano sono un'immagine purtroppo conosciuta, soprattutto in questi periodi in cui il virus influenzale colpisce tantissimi anziani. Meno note e ben più eclatanti le immagini dei pazienti stesi sulle lettighe, al fianco di cumuli di spazzatura o tra le cicche di sigarette e non solo nei pronto soccorso. In una galleria fotografica il Corriere del Mezzogiorno pubblica immagini di alcuni pazienti dell'ospedale San Giovanni Bosco, dove alle difficoltà per carenza di personale strutturale i pazienti devono fare i conti anche con questo tipo di problema. Io sono arrivata qua, ho portato mia madre in ospedale, l'unico ospedale che ho trovato più vicino era questo, ma non sapevo di trovare uno schifo, ma mi creda, uno schifo. Basta farsi un giro dentro, è molto sporco, tra l'altro come un po' tutti gli ospedali di Napoli. Alcune di queste foto sono state scattate nei pressi di una delle sale chirurgiche, ma sono tanti i disagi della sanità campana, si va dagli ascensori rotti alle lettighe del 118 con sopra i malati che bloccano le autoambulanze fino a quando il degente non trova un posto migliore per essere posizionato. Il tutto rende la sanità un malato grave, anzi gravissimo. E torniamo adesso a parlare del ricercato numero uno per gli attentati di Parigi, Salah Abdeslam, emergono nuovi e sconcertanti, particolari sulla sua fuga, a rivelargli è il ministro della giustizia belga. Vediamo insieme il servizio di Federico Plotti. Nella notte tra il 15 e il 16 di novembre scorso Salah Abdeslam era verosimilmente a Molenbeck, nel quartiere a maggioranza musulmana di Bruxelles, da dove sono partiti per compiere gli attentati di Parigi alcuni membri del comando terrorista. Erano passati solo due giorni dalle stragi e il ricercato numero uno, l'unico sopravvissuto del comando jihadista, è riuscito a sfuggire proprio sotto il naso della polizia, che poco prima e nei giorni seguenti ha passato a setaccio l'intero quartiere. La rivelazione sconvolgente non è un'indiscrezione. È stata fatta dal ministro della giustizia belga in persona, Cohen Gantz, ieri sera durante un programma di una televisione fiamminga. Salah sarebbe riuscito a beffare le forze dell'ordine durante la notte, forse nascosto in un mobile oppure in un automezzo, utilizzato per un trasloco in corso nella stessa via di Molenbeck, dove si nascondeva. Ma la notizia più sconcertante, che dileggia ancora di più la procura di Bruxelles e l'operato degli investigatori e degli inquirenti, è che Salah sarebbe riuscita a scappare indisturbato, approfittando di un'incomprensibile legge belga che impedisce le perquisizioni notturne. Mentre Bruxelles era blindata e presidiata anche dall'esercito, con scuole, negozi, locali e stazioni della metropolitana chiuse e con i cittadini tappati per giorni dentro casa, appare assurdo che un cavillo legale abbia dato all'uomo più ricercato d'Europa l'opportunità di fuggire. E di lui non si sa ancora nulla. Potrebbe non essere più né in Belgio, né in Francia e nemmeno in Europa. Alcune voci lo danno in Nordafrica o in Medio Oriente, forse in Marocco, che qualche giorno fa è messo un mandato d'arresto, o forse in Siria. Intanto ieri a Salisburgo sono state arrestate due persone, secondo gli inquirenti austriaci, collegate con gli attentatori di Parigi. Due francesi di origine algerina e pakistana, che hanno finto di essere rifugiati, esibendo falsi passaporti siriani. Sarebbero arrivati a ottobre in Austria, seguendo, mischiati a decine di migliaia di profughi, la rotta migratoria balcanica, che dalla Grecia porta verso i paesi del centro-nord Europa. E adesso andiamo in Spagna, dove il premier Mariano Rajoy è stato aggredito in strada durante un evento elettorale a Pontevedra. Vedete in queste immagini che c'è un ragazzo, alla sinistra del premier, che ad un certo punto gli dà un vero e proprio pugno in faccia, facendogli volare via gli occhiali. Poi sono scattati subito gli agenti della scorta, che hanno fermato questo giovane e lo hanno immobilizzato. E' uno schiaffo politico, possiamo dire, invece quello inferto dal premier Matteo Renzi a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. Dopo 31 sedute andate a vuoto, il PD si allea con i Cinque Stelle e per la consulta arriva la fumata bianca. Augusto Cantelmi. Proclamo eletti giudice della Corte Costituzionale il professor Franco Modugno, il professor Giulio Prosperetti e il professor Augusto Barbera. Saranno state le pressioni del Quirinale o il durissimo scontro tra Renzi e Brunetta alla Camera. Alla fine, dopo 31 sedute andate a vuoto, arriva l'attesa fumata bianca per l'elezione dei tre giudici della consulta. La svolta arriva con il cambio di alleanza deciso dallo stesso premier. Fuori Forza Italia, dentro il Movimento Cinque Stelle. La terna, composta dai giuristi Barbera, Modugno e Prosperetti, è frutto anche del coinvolgimento dei centristi. Chi resta invece a bocca asciutta è proprio Forza Italia, che ora tuona contro il premier, che non mantiene le promesse, inaffidabile come nell'elezione di Mattarella al Colle. Ma dietro alla mancata elezione del candidato azzurro Sisto, si nascondono le profonde divisioni del partito di Berlusconi, incapaci di sostenere il suo stesso candidato. Sul banco degli imputati resta il capogruppo alla Camera Brunetta, protagonista del duro scontro con Renzi, poco amato dai forzisti, portavoce della linea dura contro Palazzo Chigi, promotore della richiesta di un voto di sfiducia contro l'esecutivo per l'affaire banche. Come si fa, onorevole Brunetta, a venire a prendere in giro il Parlamento italiano? Noi abbiamo sbloccato ciò che voi avete bloccato! Da parte sua Berlusconi si lecca le ferite, irato con Renzi cerca di trovare qualche asso nella manica per risollevare le sorti del partito. Non credo che io possa, anche per purtroppo l'età che ho fortunatamente raggiunto, so di essere sopra la media italiana e quindi ringrazio Dio tutte le sere. Ma nell'orizzonte non si intravede l'uomo della provvidenza, così l'ex cavaliere è costretto a cercare altrove nuove risorse spendibili, anche nelle prossime amministrative. Per la candidatura, il sindaco di Roma starebbe effettuando sondaggi per verificare le chance di vittoria di Bruno Vespa. Ne avrebbe già parlato con gli alleati Salvini e Meloni, ma non con il giornalista che forse difficilmente si farebbe convincere ad abbandonare il celebre salotto televisivo per occuparsi dei mille problemi della città eterna, buche comprese. Via libera la legge di stabilità dalla Commissione Bilancio. Domani il testo dovrebbe arrivare alla Camera con gli ultimi interventi a pioggia. Il testo approvato fra le novità prevede il taglio del 50% dell'Imu per le prime case date in comodato d'uso a figli e genitori, estendendo però il beneficio anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile incomodato, ne possieda un altro non di lusso, adibito ad abitazione principale nello stesso comune. E fra le novità della legge di stabilità viene una che riguarda gli automobilisti, una norma che permette alle forze dell'ordine di utilizzare gli autovelox, ossia gli strumenti che servono per monitorare la velocità delle macchine, per verificare il pagamento dell'assicurazione della macchina e se il mezzo ha fatto la revisione. Ma ci spiega tutto Barbara Masulli. Chi non paga regolarmente l'assicurazione RC Auto o chi si dimentica di fare la revisione alla propria macchina deve sapere che tra poco le cose cambieranno. Non si potranno più incrociare le dita e sperare di scansare i posti di blocco. Una volta approvata la legge di stabilità infatti a stanare i trasgressori ci penseranno Tutor e Autovelox. Insomma, saranno i nuovi sistemi elettronici a multare gli automobilisti non in regola e non gli agenti. Così gli uomini delle forze dell'ordine andranno a infoltire il presidio sul territorio e quindi i controlli come alcol test e droga. E' così che l'Italia si adegua agli standard europei. Nel nostro paese sono circa 4 milioni le auto che circolano prive di assicurazione. L'emendamento inserito nella finanziaria è stato approvato ieri in commissione e bilancio alla Camera. Porta la firma del deputato del PD Sergio Boccadutri che precisa è sufficiente la targa per verificare lo stato del veicolo e una tutela del consumatore anche in termini di sicurezza stradale. La modifica al codice della strada non sarà immediata. Dopo l'iter in Parlamento infatti serviranno tempi tecnici per mettere in moto l'ingranaggio. Sarà necessario incrociare e verificare i dati inseriti nei computer delle assicurazioni e questo è più facile. Un po' più laborioso invece ma è comunque questione di mesi il lavoro che si dovrà fare sull'altro fronte. Sarà cioè creata una piattaforma per la registrazione delle officine in cui vengono effettuate le revisioni. La politica è un compito che richiede competenza onesta, morale e sacrificio è uno dei passaggi dell'omelia pronunciata dal cardinale Angelo Bagnasco il presidente della conferenza episcopale italiana nel corso della messa celebrata nella chiesa di Santa Maria Sopra Minerva per i parlamentari italiani. Che cosa da dire si è chiesto Bagnasco alla fede, alla politica? Mi pare che solleciti l'agire politico ad essere umile nel segno del servizio e non del potere. Lo sollecita a non essere supponente arrogante e chiamata a dire la verità sempre. Adesso parliamo di economia risposta positiva questa mattina delle borse europee alla mossa della banca centrale americana di alzare il costo del denaro dopo sette anni. Un provvedimento ritenuto da alcuni storico che incontra tuttavia anche molte critiche ma quali sono le conseguenze reali per i cittadini? Noi ne abbiamo parlato con il professor Leonardo Becchetti dell'Università di Tor Vergata sentiamo. La mossa della banca centrale statunitense di aumentare dello 0,25% il costo del denaro per ora convince i mercati. Questa mattina l'apertura avvio in forte rialzo per piazza affari e le borse europee bene anche i listini asiatici. A convincere gli investitori è stata soprattutto la rassicurazione del presidente della Federal Reserve Janet Yellen di procedere a ulteriori aumenti in modo graduale portando così alla fine del prossimo anno i tassi all'1,5% finisce così l'era del denaro a costo zero cominciata il 16 dicembre 2008 sette anni fa quando a capo della banca centrale a stelle e strisce c'era Bernanke. La decisione della Fed è stata possibile perché negli Stati Uniti l'economia è in crescita da anni e la disoccupazione è scesa dal 10 al 5% un dato che gli economisti interpretano come vicino alla piena occupazione in Europa le cose non vanno così bene le borse festeggiano come abbiamo visto ma i critici temono che l'aumento del costo del denaro possa strozzare la ripresa che stenta a decollare ma quali saranno le conseguenze reali per noi? Il parere di Leonardo Becchetti economista dell'Università Romana di Tor Vergata Per noi solamente una conseguenza sul cambio quindi probabilmente l'euro continua ad essere basso rispetto al dollaro svalutato questo potrà favorire le nostre esportazioni e quindi dare un piccolo effetto positivo ma non ci saranno conseguenze sui nostri tassi di interesse in quanto essi sono regolati fondamentalmente dal tasso definito dalla BCE non da quello definito dalla Fed Adesso bene ci spostiamo a Mosca dove è in corso la conferenza stampa di Vladimir Putin di fine anno le immagini che arrivano sono in diretta fra i tre i temi toccati dal leader russo ci sono i rapporti con la Turchia Putin ha detto in Turchia vede un processo di islamizzazione strisciante atto a Turchia che si starà rivoltando nella tomba e ha aggiunto anche che l'abbattimento del caccia bombardiere russo da parte dei turchi non è stato un atto di nemicizia ma un vero e proprio atto ostile con l'attuale autorità turca e la Russia non vede alcuna possibilità di trovare un accordo ha concluso Putin poi per quanto riguarda invece la questione siriana Putin ha sottolineato che nessuno ha il diritto di imporre chi deve essere il leader di un paese questo spetta solo al popolo siriano e adesso ci colleghiamo invece con l'Ecco dove c'è per noi Luciano Piscaglia che ci racconta di un presepe davvero davvero speciale è così Luciano? Sì buongiorno da l'Ecco è un presepe davvero speciale quello davanti al quale ci troviamo oggi che tra qualche istante potrete vedere è un presepe che è stato realizzato dai profughi dai richiedenti asilo accolti qui nel centro di prima accoglienza della fondazione progetto Arca di Lecco e soprattutto è importante e significativo questo presepe perché la maggior parte di coloro che hanno collaborato a realizzarlo non sono di religione cristiana ma sono musulmani la stessa idea di realizzare qui un presepe è nata tra loro e allora chiediamo subito ad Elias pakistano musulmano perché avete voluto fare un presepe? Noi qua ho preparato questo presepe per un massaggio a pace e amore e accoglienza un messaggio di pace di amore e di accoglienza rivolto dai profughi dai richiedenti asilo a tutta la città di Lecco Clelia Paratore infermiera e operatrice del centro hanno collaborato tutti ognuno per quello che sapeva fare si hanno collaborato tutti ognuno ha messo a disposizione le sue capacità chi ha cucito chi ha colorato chi ha tagliato il legno cioè ognuno ha messo proprio a disposizione quello che sapeva fare un messaggio di pace e di amore ma anche grazie alla città che li ha accolti come ha risposto la città di Lecco? La città ha risposto benissimo tanto che qui passano a pista ciclabile e quando passano in bicicletta entrano soprattutto gli anziani a vedere a chiedere a congratularsi per questa idea Prima di concludere questo collegamento io so che Elias vuole a nome di tutti fare gli auguri ad una persona Buone compleanne Papa Francesco E con gli auguri di buon compleanno a Papa Francesco termina il nostro collegamento da Lecco la linea torna allo studio Grazie grazie Luciano termina qui il nostro telegiornale spazio adesso a terza pagina che oggi ci racconta di una mostra di sculture fatte con i Lego che sta facendo impazzire a Roma adulti e bambini che sta facendo impazzire Grazie a tutti Grazie a tutti.